Tutto pronto a Sanza per l'atteso concerto degli articolo 31 in programma domani sera presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco con inizio alle 21.30. A vent'anni dall'uscita dell'ultimo album Italiano Medio, il duo che ha scritto la storia del rap italiano è tornato finalmente live con un attesissimo tour che farà tappa domani a Sanza per l'evento clou del Meeting del Cervati 2023. L'opening sarà affidata a Vladi, DJ e produttore di fama internazionale, sul palco con Axe Jed, una band formata da sei elementi, Marco Arata, direttore band, chitarrista e corista, Space One, seconda voce e Hype Man, Fabio B, DJ, Giulia Jean, corista, Linda Pinelli al basso e Steve Lucchi alla batteria. Tra fiamme e suggestivi effetti di fumo lo spettacolo durerà oltre due ore e mezza con più di 30 brani in scaletta per cantare, emozionarsi, divertirsi, commuoversi e ripercorrere insieme al pubblico la storia della propria vita. Una festa all'insegna del rap, del funky e del pop per riabbracciare i fan di sempre del duo che ha segnato l'inizio della musica rap in Italia con il Monte Cervati a fare da suggestiva scenografia all'unica tappa estiva in Campania. La storia degli articolo 31 è la storia di una unione artistica cominciata nel 1990 e interrotta nel 2006 dopo aver pubblicato ben nove album e che dopo 17 anni di pausa trova una nuova amicizia, realmente mai accantonata. E così J-Ax e DJ Jed, dopo aver calcato le scene dell'ultimo festival di Sanremo, tornano a incendiare nuovamente le scene con un grande tour live prodotto da vivo concerti. I biglietti per il concerto a Sanza, organizzato dal comune di Sanza in sinergia con anni 60 produzioni, sono ancora disponibili sui circuiti ticket1.it e go2 e nelle prevendite abituali e saranno acquistabili anche il giorno stesso dello show, quindi domani, al botteghino allestito in piazza 24 maggio a Sanza. L'ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 12 anni.